Un cuore matto che ci tiene ancora e i server forse sono online, si va a provare la nuova arma Ragazzi mi raccomando un bel mi piace al video e iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto Sono uscite o una o due armi nuove e la mappa è un po' cambiata, con dotti confusi è cambiata Hanno spostato il palazzo centrale di Pinnacono, insomma ora vediamo un po' tutto Eccoci, siamo in lobby dopo ieri... Ooooooh! Sono tornati nello shop Ragazzi, codice creatore RDTYT e già che ci siamo, ce lo mettiamo Bello! Allora, questa qua è la nuova mappa, ci sono due punti interrogativi, uno qua e uno qua E noi andiamo qua Oh ecco il nuovo DMR Nooo! Che figa... che figata! Praticamente è una specie di fucile d'assalto con mirino Dei tempi No bellissimo ragazzi, va andiamo là Madò praticamente crocevia è diventata tutta cromata Madò Eccolo il palazzo centrale di Pinnacoli Ma che ci fai palazzo centrale? Ma dovevi stare tu dall'altra parte Un po' cambiata eh, parecchio cambiata Ah che cacchio vuoi scusa? Perché vuoi venire qua a rompermi le palle? È cortesia, fai il bravo Vai 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 andiamo, andiamo a pusciare, andiamo a pusciare Qua qua ne vedo uno Ciao ninja, ciao caro ninja, come stai? Porca miseria Beh ciao ninja, stanno buone Dove siete? Da qua? Porca miseria, che botta Eccolo il nuovo arma! Abbiamo la nuova arma che ora proviamo eh, due secondi Oddio che casino, sono tutti qua ragazzi, sono tutti qua Kaia Morto Nooo Il ninja che deve rompere le palle Oddio ma c'è il dirigibile anche vicino a Condotti Diciamo che è una casa horror questa qua Sapete cosa mi sembra? Mi sembra tipo Lande Letali sto posto Guarda È simile a Lande Letali, non so perché Mi ricorda Lande Che bello però come posto Molto bello questo qua Forse è Forse è meglio così Meglio così che come era prima Condotti Eccoli, sono tornati anche i guanti Bello Stai bruciamo tutta la casa Eeeh Oddio Nooo Che figata Ma che figata Con le chiavi puoi prendere il Questi po- Ho sto pompa Ho sta mitaglietta Jerry ero oltre palle a parlare Porca miseria Stai zitto La chiave per noi E adesso con la chiave Guardate possiamo prendere Eeeh Che ci prendiamo ragazzi? Io prendo la mitaglietta Prendiamoci la mitaglietta Guarda No vabbè Figa Ragazzi Figata 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 clamorosa Dammi un'altra chiave Così mi prendo pure il pompa Che c'è? Jerry Che c'è? C'è un tizio? Mori Bello Nuova arma? Ok C'è la nuova arma Questo qua Mi piace Prendiamocela Proviamo la nuova arma Ragazzi Vediamo un po' com'è Non va sicuro niente Vedo un tizio qua sotto Fermi Oddio Oddio ragazzi Oddio quanto è forte Ragazzi è fortissimo St'arma Mori grazie Nooo Hai un altro tizio qua Mori grazie Ai arriva altra gente Hai rotto veramente le palle Mori grazie Mori Bello Porca misera Quanto è forte Fermi Stanno picchiando Vediamo Mamma mia Mamma Mamma mia Ma cos'è in sto spettacolo Troppo forte Ecco la jump piazzata Bellissima Ok Un altro tizio Lo facciamo fuori Aia porca trota Che botta Che botta Mi ha tirato Ok Ci abbiamo la R È epico Però non lo prendo Perché voglio ancora Provare il DMR nuovo Mori Mori Mamma mia No ragazzi Ma avete visto Ma avete visto Ma avete visto Come l'ho sciolto Cos'è sto spettacolo Di arma È legale O no Ma poi non smira Di una virgola Rimane là Fermo immobile Non si schiotra Da lì eh Quello là sotto Devo vettarlo per forza 38 Mamma mia Mamma mia Che male li ho fatto Eh ma pure lui Ce l'ha eh Dammi qua Aia porca miseria Però Devi schiattare Devi schiattare All'istante Sta dentro la casa Porca miseria Stava qua Bello No Madonna Era mo Otto di vita Madonna ragazzi Però tanta roba Dai Oh praticamente Abbiamo visto Il palazzo di pinnacoli Che si è spostato La nuova crocevia Il benzinaio sopraelevato L'arma che è devastante GG Non abbiamo visto purtroppo La nuova arma Cioè non so se l'hanno messa La nuova arma Quella là che spara Il coso arancione Ragazzi vi ringrazio Per aver visto questo video Ci vediamo Come sempre in live Ciao belli